E' arrivata la nuovissima stagione di Clash Mini ed è davvero orribile Il problema principale sono le ricompense del pass e della scalata dei trofei Parleremo di tutto questo nel video di oggi E quindi prima di iniziare mi raccomando un bel like, in descrizione e campanellina e partiamo subitissimo Entriamo su Clash Mini Allora con calma, oggi 1 ottobre, il video esce un po' in ritardo perché ho fatto per gli acquisti così interessanti Comunque poi ve ne parlo Oggi 1 ottobre, nuova stagione di Clash Mini Piccola promessa, uscirà un video riguardo a queste 3000 coppe perché sì Ho ottenuto l'avatar del ghiaccio e mancavano praticamente 6 ore alla fine del cambio stagionale E ho fatto pure tipo 600 coppe in un giorno Ma non posso aiutarti con questa richiesta Ma che cosa vuoi? Ho praticamente fatto 600 coppe in meno di un giorno pur di ottenere questo avatar del ghiaccio del Natale Molto interessante Ma a noi oggi non interessa questo Ci interessa molto molto di più andare a vedere un po' le ricompense, lo shop e tutto quanto in generale Allora partiamo, io direi, dalle missioni ci rischettiamo quello che c'è Ok, missioni, non c'è niente di particolare, niente di così Wow, ok, niente di assurdo A noi interessa un attimino andare a vedere La scala dei trofei Ok, direte Nuova scala dei trofei Ottobre, magari un avatar Vabbè ma l'avatar no perché è diventato raro Quindi l'avatar uscirà quando ci sarà il lancio globale Quindi fino ad allora tutti questi avatar Fuoco, teschio e neve dovrebbero essere più rari Esatto, giusto Magari ci mettono come ricompense le 3000 coppe 10 gem, una skin Andiamo a vedere le ricompense 2000 coppe, 300 crystal coins Ok, vabbè Magari a 3000 coppe, non so Ci danno delle skin, delle gemme, no? Cioè 3000 coppe sono pur sempre 3000 coppe Stendiamo un attimino Ok, qua tutto normale 2800, perfetto Vediamo le 3000 coppe? Ah, ok No, sì Ma cosa sto vedendo? Allora come può essere che io a 3000 coppe Mi prendo 300 crystal coins? Vuoi paragonare i 300 crystal coins e le 2000 coppe? Ma no E poi a 1300 coppe Ottieni 1500 crystal coins E a 3300 Ma non ha senso Almeno datemi 3000 crystal coins E là un pochino mi motivi a giocare tutta la stagione Ma così proprio non mi viene nemmeno voglia di farci una partita a questo gioco Va bene Ci sta, tanto queste qua saranno 3 mesi, 3 stagioni inutili Perché è vero ragazzoli Puoi fare un video a riguardo Ma parleremo della morte di Clash Mini per questi 3 mesi Perché il gioco non morirà mai Perché uscirà globale, io lo so, ne sono sicuro Però per questi 3 mesi dovremmo rimanere così Non so, giocheremo a qualcos'altro A scacchia a sto punto La cosa più simile Però, eh sì Questa qua è la season Che sarà così pure per novembre e dicembre Quindi non aspettatevi cose mistiche Ma tornando al pass Andiamo al pass Magari che ne so Nel pass ci aggiungono una skin nuova Perché ancora deve uscire quella del principe acquatico E quella del mago zap acquatico Quindi un po' di skin le potrebbero aggiungere Vediamo un attimo quali sono le ricompense Facciamo acquista Ah ok Le stesse ricompense di 3 mesi fa No, no, no Perché queste cose? Non mi sto nervosendo per niente Però, cioè Secondo me Potevano mettere qualcos'altro Non dico nuove skin Creare nuovi modelli 3D Ma cambiate le skin Cambiate gli avatar Cosa me ne faccio di queste skin? Cioè mi date i crystal coins indietro L'ho capito Ma quanti? 1500? Giusto per capirci Ho 42.000 crystal coins Non so cosa comprarmi con 42.000 crystal coins Ho tutte le skin del gioco Vabbè Lasciamo stare L'avatar ci può stare Le gemme sono buonissime Io infatti Piccola premessa Non mi odiate Ma mi sa che andrò a shoppare pure questo pass Perché? Solo per le gemme Perché comunque 350 gemme Costano molto di più rispetto a 10 euro E quindi io Per ottenere gemme Sendo che mi devo prendere alcune skin Come la Natureborn Mi sa che vado a fare questo acquisto Di 10 euro Anche per una cosa che già ho Ma comunque È un acquisto comunque fattibile Cioè non è Non è troppo difficile Tornando a parlare Dell'orribilità di questa stagione Mi dispiace dirlo Però hanno sbagliato Secondo me Tante cose Fino ad adesso Io mi chiedo Team di Gleshmini Che mi ascoltate voi Lo sapete Io vi supporto sempre Amo il vostro gioco Fin dagli albori Ma scusatemi Ma queste skin Dove vanno? Cioè dove sono finite Queste skin acquatiche? Avevate detto a noi creator Che sarebbero uscite A settembre Siamo ad ottobre Non c'è nella vaga ombra Di queste skin Andando nel Mago Zap Per non parlare della skin Che più vorrei andare ad acquistare Quella del Cavaliere Cavaliere Foga Dove sono andata a finire? Lei poteva demettere nello shop? Beh al momento Non ce le abbiamo Eh già Eh già Un po' così Passiamo alla quarta cosa di oggi Che un po' mi fa storcere il naso Il bilanciamento Come tutti voi sapete Arriverà l'11 ottobre Se non lo sopevate Andate a vedere questo video Abbiamo parlato del nuovo aggiornamento Oppure delle clan war Che dovrebbero arrivare in futuro Un video molto interessante Però Eh sì Sì Fino ad allora Non avrà senso giocare Infatti I contenuti di Clash Mini Diminuiranno di gran lunga Io non smetterò mai Di giocare ovviamente Cioè io continuerò ragazzuoli A farci i miei bei gameplay Giocando Da solo O vi faccio pure qualche video Però fino a quando Non ci sono contenuti Diciamo che qua Siamo un po' in difficoltà Con questa stagione Se notate Questo event pass Ancora non l'ho acquistato E mi sa che non lo farò Essendo che Non lo so ragazzuoli Non sono troppo Invoiato a shoppare In questo periodo Su Clash Mini Un po' troppo monotono Quello che stanno facendo Sono contentissimo Perché ho ottenuto Un sacco di avatar Tutti questi tre Che sono rarissimi Mi metterò questo qua Perché è il più raro Al momento Ma un'altra domanda Che io mi pongo Ma tutti questi avatar Quando li posso ottenere Io non Continuo a non capire Quando posso ottenere Tutti questi avatar Escono nello shop Una volta E poi non tornano più Cioè ma che senso ha Non lo so ragazzuoli Era un video un po' sfogo Questo qua Ditemi nei commenti Voi cosa ne pensate Di questo nuovo aggiornamento Il dubbio Cioè c'è una partita Con questo deck Che mi ha fatto fare 600 coppe in un giorno Ripeto 600 coppe in un giorno È davvero davvero forte Io ve lo consiglio Sì però È abbastanza noioso C'è un classico deck Schieri allo stesso modo Per 70 partite Poi farò un video Di come ho fatto Tutte quelle coppe E c'è stavo per perdermi L'avatar più grato del gioco Però grazie a un tryharding Che è durato dalle 10 di sera Fino all'una e mezza di notte Sono riuscito ad arrivare A 3000 coppe Ho rischiato? Sì Ma sono un amante del rischio Sì? No? Lo sapete? Lasciamo stare Comunque il primo round L'abbiamo vinto A noi in realtà importa Principalmente questo qua Voi lo sapete no? Molto ma molto bene Allora Che facciamo mettere Un gran cavaliere di qua Che è fondamentale Metterei pure una stun duration aumentata Perché ci consente Di andare a stunnare La shield maiden Un problema è sicuramente La sua healing ranger Quindi se ho minato adesso Non mi ricordo Se questo deck contiene il minatore Però comunque Se ho qualche truppa Che va di dietro Sarebbe davvero davvero utile Comunque L'ho messo il pack Che ha potenziato L'healing ranger Con la prima star La nostra royal champions È rottissima Cioè la prima stagione Dove la royal champions Ha senso di esistere Voi dovete sapere Che io un po' La royal champions La odio Usarla Non mi sta molto simpatica Però pur di calare In modo semplice Faccio di tutto Allora Sicuramente potrebbe essere Buono un minatore E eccolo qua Presentissimo Fortissimo Vado in realtà A potenziarmi la pack Con la prima stella E stiamo così Sì secondo me Così va benissimo Anche se lunatico Secondo me Mi fa un push Devastante Lunatico italiano Ciao lunatico Benvenuto Salutiamo a tutti quanti lunatico E ok Il suo pecca L'ha potenziato un po' Troppo Mi sa che perdiamo Sì questo round È bello che è perso Un bel problema Ragazzuoli Ripeto È la sua Eling ranger Che dà il fatto Della invulnerabilità E mi permette di perdere Perché il mio deck È fondamentale Soprattutto nel fattore Invulnerabilità Con lo stunning Continuo Del gran cavaliere Lunatico Mi stai facendo Un attimo inalberare Vediamo se riesco A gestirla in modo decente Mettiamo un principe qua Ok Il minatore lava È davvero inutile Perché Niente raga La vedo malissimo Importante è partecipare Ditemi nei commenti Se voi giocherete A questa stagione E io scommetto Che il 90% di voi Che sta guardando questo video Smetterà di giocare Per tre mesi Mi dispiace davvero un sacco Perché Vabbè Io amo clash mini Quindi non portare Per tanto tempo Meglio Portare molto di meno Clash mini Mi dà molto fastidio Perché Vorrei portarlo ogni giorno Io clash mini A queste cose Dobbiamo comunque capire Che non è ancora uscito globale Uscirà sicuramente globale Però fino ad allora Dovremmo stare allo sviluppo Di un gioco in beta Ci hanno devastato Ci hanno totalmente devastato Lunatico Sei un po' troppo lunatico Secondo me Sicuramente interessante Qua c'è il clan Nessuno push Giustamente Comunque ragazzi Ritornando un attimino Al fatto delle 3000 coppe Io spero che le cambino Spero che abbiano sbagliato Non lo so Perché cioè Non danno proprio motivazione A nessuno di andare a giocare Praticamente raga Se shoppate l'event pass Vi fate più di 300 crystal Coins Cioè con 2 euro Vi prendete una ricompensa Che vi costa Ore e ore e ore Di tryharding Non mi pare molto equa Come scambio Tempo Ricompensa Però Detto ciò ragazzuoli Ditemi le vostre commenti Spero che questo video Vi sia piaciuto L'aggiornamento Non credo Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Quei video che sono appena apparsi Qua accanto E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ciao